questo è il negozio dedicato ai vestiti cosplay delle mandalache e ci sono una marea di vestiti facciamo vedere questo è quello di cure white delle pretty cure ma se ne sono veramente veramente tanti i prezzi non sono neanche così tanto proibitivi come si possa immaginare dipende molto da vestito qua c'è addirittura lady oscar guardate che bello a 12 mila ieni circa 100 euro poi abbiamo anche le parrucche le ciocche oh i vestiti dei sailor c'è un reparto rededicato uranus eftun chiusa state perché ho le buste dello shopping e non riesco a muovere venus qui c'è anche una cosa divertente che scoperto lì ovviamente c'è un seno finto nel senso che voi lo attaccate da dietro vedete qua ci sono le cordicelle elastici e sembra che avete un seno bello prosperoso per cosplay per cosplay veramente sì anche perché si è fatto anche per gli uomini soprattutto no si possiamo avere un seno in questo modo possiamo averlo qui abbiamo altre parrucche ancora una marea di parrucche cercare il tuo colore qui c'è ma è una bota di siero le portafogli gli anelli comunque il seromone non è presente è presente mi piaceva le tette mi piaceva le tette non avrà mai detto 4.800 yen ci pensiamo magari il mio Q come le farà meglio naturali quindi magari 4.800 yen 4.800 yen